No, no, dite qualcosa, ho ritrovato, vedremo cosa combina, anteprima, anteprima, quattro sesti di un gruppo storico di cui stiamo parlando, quattro sesti, un quinto in arrivo mi sa, un quinto tra un po' arriva, sta preparando una grande sorpresa per uscire, tra i nostri fans, grandi fans, li lasciamo mangiare però prossimamente ne parleremo sicuramente, buon appetito!